Benvenuto su Sports Science, io sono Paolo Bartolucci e in questa sessione formativa parleremo di atteggiamenti ed alterazioni del rachide sul piano sagittale, argomento che è stato introdotto nella sessione precedente in cui si parlava prima di tutto di una sostanziale differenza tra paramorfismi e dismorfismi. Welcome to SportsScience.com, sponsored by ATS. In un processo operativo, professionale, lavorativo, tutti questi argomenti poi si intersecano l'un con l'altro. Quindi è ovvio che per ogni sessione cercheremo di trattare, come anche nel webinar, nella sessione di oggi, cercheremo di trattare un pochino settorialmente ricordando però che il tutto va sempre integrato con tutte le altre tematiche. Parleremo appunto di atteggiamenti ed alterazioni, quando parliamo di atteggiamenti ed alterazioni il preambolo doveroso è sempre quello correlato a che cos'è un'alterazione, che cosa sono gli atteggiamenti o i paramorfismi, introducendo sempre l'argomento in ambito posturologico. Quando si parla di alterazioni ed atteggiamenti si parla di alterazioni correlate appunto a un qualcosa che può in qualche modo perturbare lo stato di equilibrio della postura nel senso più generale possibile. Quindi ricordiamo sostanzialmente che la postura può essere assimilata come una sorta di strategia con la quale il sistema in toto cerca di rispondere alle sollecitazioni quotidiane, professionale, piuttosto che sportive e perché no anche proprio nella totalità dello svolgimento delle attività anche di tipo casalinghe, piuttosto che anche di ehm a scopo ricreativo e quant'altro. Quindi diciamo nel senso più generale possibile la potremmo in qualche modo assimilare appunto la postura a questa sostanziale strategia. Quando inevitabilmente qualcosa eh tende a perturbare questo sistema, questo sistema non riesce in qualche modo a dare una risposta adeguata, una risposta ergonomica e funzionale a tali sollecitazioni o tal tali ehm perturbazioni in qualche modo vengono a manifestarsi dei compensi più o meno importanti. Ora vale la pena ricordare che il sistema riesce tutto sommato a trovare un suo equilibrio oltre però il quale il quale eh possono manifestarsi non solo dei compensi ma dei correlatamente delle problematiche a volte anche a tendenza patologica sempre tra piccolette che poi il tutto va sempre esaminato con un approccio multidisciplinare eh e in qualche modo eh rendere difficoltoso lo svolgimento della vita quotidiana. quindi questo è sempre il preambolo fondamentale altro concetto che va ampiamente sempre considerato è che postura e movimento statica e dinamica sono sempre in stretta correlazione. Noi parleremo, trattiamo e tratteremo sempre in maniera ehm compartimentale ma ricordandoci che inevitabilmente è più un approccio didattico nel momento in cui in una breve sessione formativa si cerca di ehm spacchettare di ehm spacchettare di trattare un pochino l'argomentazione come nello specifico oggi sulle eh alterazioni del eh sul piano sagittale del racchile quindi è fondamentale ricordarci che tutto quello che viene trattato poi in ambito operativo richiede un un'analisi occhiometrica un ragione un ragionamento diagnostico algoritmico totalmente diverso perché si parla di sempre di una multidisciplinarietà di una moltitudine di aspetti che subentrano ci tengo a precisare a ricordare eh questa modalità di ragionamento e divisione delle argomentazioni sappiamo che postura e movimento possono eh influenzarsi un con l'altro in base a che cosa come può determinarsi eh una statica che influenza più la dinamica o viceversa per la quantità di stimoli o di posizione o di movimenti ripetuti nel tempo questo vale a dire sostanzialmente allo stile di vita che il soggetto svolge ancora abbiamo detto che quando si parla di postura anche nell'argomentazione di oggi dove parleremo di atteggiamenti ed alterazioni del racchile sul piano sagittale va sempre considerato eh il concetto di gerarchia delle posture la postura non è solamente una componente eh relativa all'apparato locomotore non è solamente muscoli ed ossea di articolazioni che vanno in qualche modo a compensare a migliorare o sostanzialmente ad espletare delle dinamiche motorie o di tipo posturologico ma è soprattutto il sistema nervoso centrale quando si parla di sistema nervoso centrale si parla di una serie di funzioni che lo stesso svolge e di tutto ciò che è correlato quindi al eh sistema afferente e deferente soprattutto con la modalità con cui il sistema vada a acquisire tali informazioni questo è solamente il solito preambolo che mi preme fare per l'importanza con cui va visionato un individuo considerando che l'individuo è un insieme di componenti e capacità è un insieme di apparati di sistemi di apparati e non può essere considerato solo per una componente quindi questo è un una solita premessa di questo è un'altra sport science dot com sponsored by ATS ATS ATS